In qualche modo, mi avete già ascoltato ieri, in qualche modo la strada che seguirò in questo mio contributo è simile a quella strada che abbiamo percorso ieri per Amos. Naturalmente do ragione pienamente tra Alessandro che mi ha preceduto per quanto riguarda la sua tematica del libro unico dei dodici, sono d'accordo con lui, naturalmente anche se poi questi cosiddetti capitoli ciascuno costituiscono anche delle perle che vanno apprezzate singolarmente. Quindi diciamo così sono d'accordo con lui. E seguo appunto questa strada che ho tracciato ieri anche per il libro di Ezechiele in modo che insieme in qualche modo possiamo avere accesso a questo libro che è molto difficile e purtroppo ingiustamente anche spesso marginalizzato, è marginato perché, ecco, lo diceva poco fa il decano, il profeta della purità legale. Ecco, mi è venuto un pochettino di, per me che sono, diciamo così, un difensore di Ezechiele, del libro di Ezechiele. Ecco, non è semplicemente questo e naturalmente il libro è estremamente complesso per storia, per tematiche e per profondità anche di pensiero, come cercherò di lumeggiare. Allora, in qualche modo già vi è stata spiegata, diciamo, spiegato il contenuto di questo sinteticamente, di questo mio contributo dal decano. Perché il titolo, Ezechiele, soggetto e oggetto del libro? La lettura del libro di Ezechiele ci mostra le gesta, in parole ed opere, di un personaggio, un soggetto appunto, soggetto, che fa da protagonista di questa grande opera, 48 capitoli. Mentre però analizziamo in profondità i testi, ci accorgiamo anche che il libro di Ezechiele è il risultato ben riuscito e compatto del lavorio di varie generazioni che hanno rielaborato e attualizzato di volta in volta le parole del profeta. Di modo che, di modo che il profeta Ezechiele diviene per i destinatari anche l'oggetto da riguardare, da ascoltare e dal quale farsi illuminare. Alla sua chiamata da parte di Dio, nella sezione che va dal capitolo 1 fino al capitolo 3, versetto 15, Dio, nell'inviare Ezechiele alla casa di Israele, Beth Israel, oppure Bene Israel, dice, sapranno così che un profeta si trova in mezzo a loro, capitolo 2, versetto 5. In altri termini, il libro non vuole semplicemente raccontare quello che il profeta Ezechiele ha detto e ha fatto, bensì soprattutto vuole rivelare, attenti, stiamo parlando in questi giorni di profetismo e apocalittica, rivelare, difatti, uno dei padri del pensiero apocalittico è proprio Ezechiele. C'è tutta una rilettura apocalittica finale del libro. Quindi non solo gesta, parole, ma vuole rivelare nelle parole, nei gesti, nelle vicende del profeta, un grande messaggio ai destinatari di ogni generazione. E quali sono questi messaggi? Li vedremo uno per uno e cercherò, ve lo prometto, di essere, diciamo così, sintetico. Il senso della storia, uno. Due, il significato dell'alleanza di Israele con Dio. Tre, il problema del male, anche precedentemente, il professor Coniglio ha parlato di Teodicea, il problema del male. Poi, quattro, la possibilità di salvezza, scusate, terzo, la possibilità di salvezza, e infine le speranze che divengono utopia. Allora, senso della storia uno, significato dell'alleanza due, il problema del male tre, la possibilità di salvezza e le speranze che divengono utopia. Allora, vediamo il senso della storia. Il sacerdote Ezechiele, chiamato da Dio ad essere un suo profeta, cioè suo messaggero per il popolo eletto, non è un personaggio di fantasia, ma un uomo concreto, membro di un popolo, che da un lontano inizio, sotto l'unico scettro di Davide e di Salomone, si è diviso in due regni, dei quali il primo, il Regno del Nord, o Israele, dopo varie vicissitudini, è crollato con la caduta della capitale, Samaria. Più volte abbiamo sentito queste cose questa mattina, e le sentirete in qualche modo ripetere anche da me, 722 o 721. Così che è rimasto solo il secondo, il Regno Meridionale di Giuda, l'abbiamo vista anche con Amos ieri, sotto la guida della dinastia davidica. Ma anche per il Regno di Giuda è arrivato il momento drammatico della fine. Nella prima fase, nel 597, il re babilonese Nabucodonosor II ha inferto un colpo fatale a Gerusalemme, portando in esilio il giovane re Joiachim, con un seguito di deportati, quella che viene chiamata con termine anche, che è diventato un termine tecnico, Gola, la colonia dei deportati, di cui faceva parte appunto il sacerdote Ezechiele Benbusi, figlio di Busi, e mettendo al trono, Nabucodonosor ha messo al trono, al posto di Joiachim, lo zio Sedecia, ritenuto a lui fedele. Sono passati dieci anni, ma le cose non sono cambiate, anzi, le mene, i giochi politici dei due partiti pro o anti-babilonese hanno esasperato la situazione, così che Nabucodonosor ha inferto il colpo finale alla comunità giudaica. Ha distrutto e incendiato Gerusalemme, il Tempio, e ha condotto altri gruppi di persone in esilio. 587. Ormai sembrava la fine di tutto. Vi era posto solo per la disperazione. Tuttavia, in quei dieci anni trascorsi, persone ispirate come il profeta Ezechiele hanno cercato al momento in vano, al momento in vano, di far capire a questa casa di Israele che cosa andava succedendo e come avrebbero dovuto agire, non solo politicamente, ma soprattutto socialmente, i disordini, che sono diventati poi anche guerra civile, e religiosamente il problema dell'idolatria, sempre imperversante, ma soprattutto ormai nella concezione di queste persone delle quali vi ho parlato ieri, queste elite intellettuali che già da tempo coltivavano una religiosità molto raffinata, molto spirituale, che poi diventerà il monoteismo del giudaismo, e quindi guardavano ad un passato criticamente la religione che noi diciamo non troviamo totalmente nella Bibbia, la religione di Israele, dell'antico Israele, era diversa da quella che diventerà con il giudaismo, sarà quasi una, diciamo, una nuova religione, per modo di dire, certo, in continuità, ma come tutte le cose, come tutte le cose che avvengono nel continuum della storia, si può andare avanti soltanto nella discontinuità, altrimenti non si va più avanti, no? Non apro qui il discorso su tante cose che ci riguardano anche oggi. Bene, questioni concrete, quindi, che hanno però segnato nella storia di Israele una svolta epocale. come vi dicevo ieri, in maniera tale che potremo suddividere questa storia in prima della catastrofe e dopo la catastrofe, perché dopo la catastrofe certi semi buttati nel campo diventeranno addirittura una nuova religione, una nuova spiritualità. Bene, che cos'è avvenuto? Nella tragedia una luce. Gruppi elitari di sacerdoti, scribi, hanno cercato di correre ai ripari e di ricostruire l'identità che Israele rischiava di perdere. In quel tempo le guerre non venivano condotte soltanto dagli eserciti, ma dai rispettivi dei, dalle rispettive divinità. Se a un certo punto i babilonesi avevano vinto e schiacciato il popolo giudaico, vuol dire che Marduk era più forte di Yahweh. E quindi non erano pochi quelli che si convertivano o rischiavano di convertirsi. Un po' come è la moda di oggi, no? Che che è bello il buddismo, che è bello l'induismo, altro che noi. In realtà ci sono delle cose belle nel buddismo, nell'induismo, nell'islamismo, ci sono cose stupende perché sono frutto dello spirito umano che, come dice da sempre la tradizione della Chiesa, contiene semi divini. Ma cerchiamo di conoscere anche la nostra religione fino in fondo. Anche noi abbiamo cose stupende, no? E si rischiava proprio questo in quel periodo. Quindi il protagonista di tale ricostruzione è stato soprattutto quel movimento che viene chiamato in genere dagli studiosi deuteronomistico il quale ha messo mano ad un'impresa titanica. Ha scritto una lunga storia che va dalle origini del mondo fino al VI secolo. Naturalmente anche qui c'è tutto un processo genetico, non è che ha inventato dal nulla, ha trovato materiale già predisposto, ma che poi ha aggiustato un po' come è avvenuto per quello che abbiamo detto stamattina del codice dei dodici profeti minori. Quindi c'è stata una questa diciamo questa storia preparata approntata dal deuteronomismo che ha ricostruito in qualche modo il passato di Israele fino a quei tempi. Ecco, ha messo a mano però questo movimento anche a quella che noi chiamiamo letteratura profetica canonicamente quindi anche Ezechiele ma il deuteronomismo come apparirà da qualcosa che vi farò vedere, sentire dopo ha messo a mano anche qui nel libro di Ezechiele perché noi canonicamente distinguiamo libri storici, libri profetici e nel canone ebraico si parla di Ketuvim noi parliamo di libri sapienziali in realtà in quel tempo non c'era questa distinzione quindi hanno messo a mano a letteratura che poi in seguito sarà distinta in letteratura storica profetica eccetera quindi hanno fatto questa opera grandiosa titanica di ricostruzione proprio per ridare identità al popolo quindi il suo scopo era quello di ricordare che cosa era Israele ma razionalizzando la tragedia e il secondo motivo che vi ho detto anche ieri anche quello di interpretare detta tragedia eticamente e di far capire perché era avvenuta si trattava di una rilettura della storia che noi oggi potremmo definire parziale ma che tuttavia ha funzionato il male nella storia sopravviene ad opera dell'uomo e della sua incapacità di obbedire alla legge del Signore da qui i disastri è il messaggio che viene svolto lungo tutto il libro di Ezechiele con l'ausilio di una scrittura artistica di rilevante valore letterario è una vita che io studio tra le altre cose anche il libro di Ezechiele e quindi abbiamo vari generi usati oracoli vedi al capitolo 6 e il capitolo 22 allegorie la famosa allegoria matrimoniale del capitolo 16 terribile ma anche dolcissima capitolo 17 capitolo 19 le invettive terribili in Ezechiele a capitolo 11 fino al capitolo 12 versetto 13 gesti simbolici ma il brano che meglio sintetizza il messaggio di Ezechiele sulla storia è il capitolo 20 e siccome non posso leggere per punto perché vi ho fatto una promessa tutti i testi a meno questo però possiamo leggerlo ecco capitolo 20 perché è in qualche modo una sintesi di quella visione della storia che da Ezechiele in qualche modo anche anomala rispetto a quello che noi conosciamo della storia di Israele quindi capitolo 20 nell'anno settimo nel quinto mese il 10 del mese alcuni anziani di Israele vennero a consultare il Signore e sedettero davanti a me quindi evidentemente in quel tempo in quella in quella gola si facevano questi incontri periodici dove Ezechiele faceva dal Capo dell'Assemblea il Presidente dell'Assemblea mi fu rivolta a questa parola del Signore figlio dell'uomo parla agli anziani di Israele e di loro così dice il Signore Dio venite qui per consultarmi come è vero che io vivo non mi lascerò consultare da voi oracolo del Signore vuoi giudicarli li vuoi giudicare figlio dell'uomo mostra loro gli abomini dei loro padri di loro così dice il Signore Dio quando io scelsi Israele e alzando la mano giurai per la stirpe della casa di Giacobbe apparvi loro nella terra d'Egitto e alzando la mano giurai per loro dicendo io sono il Signore vostro Dio allora alzando la mano giurai di farli uscire dalla terra d'Egitto e condurli in una terra scelta per loro stillante latte e miele che è la più bella fra tutte le terre dissi loro ognuno getti via gli abomini che sono sotto i propri occhi e non vi contaminate con gli idoli d'Egitto io sono il Signore vostro Dio ma essi mi si ribellarono e non vollero ascoltarmi non gettarono via gli abomini dei propri occhi e non abbandonarono gli idoli d'Egitto allora io decisi di riversare sopra di loro il mio furore e di sfogare contro di loro la mia ira in mezzo al paese d'Egitto ma agì diversamente per onore del mio nome perché non fosse profanato agli occhi delle nazioni in mezzo alle quali si trovavano poiché avevo dichiarato che li avrei fatti uscire dalla terra d'Egitto sotto i loro occhi chi ha composto questo oracolo aveva già sperimentato la fine della comunità giudaica quindi quando c'è l'Egitto si cita l'Egitto in realtà si sta citando anche Babilonia così li feci uscire dall'Egitto e li condussi nel deserto diedi loro le mie leggi e feci loro conoscere le mie norme perché colui che le osserva viva per esse diedi loro anche i miei sabati eccetera eccetera ma gli israeliti si ribellarono contro di me nel deserto essi non seguirono le mie leggi disprezzarono le mie norme allora nel deserto io decisi di riversare su di loro il mio sdegno e di sterminarli vi ricordate che stando a un improbabile evento narrato nel libro nell'epopea dell'Esodo la generazione del deserto è tutta scomparsa ed sono entrati nella terra promessa ecco perché vi dico improbabile soltanto i figli di quella generazione capeggiati da Josue e Caleb ecco quindi sta parlando di questo di questa storia ma agì diversamente per onore del mio nome perché non fosse profanato agli occhi delle nazioni di fronte alle quaglie li avevo fatti uscire sempre c'è la lente contemporanea dunque avevo nel deserto alzando la mano avevo anche giurato ma agì diversamente perché non fosse profanato agli occhi delle nazioni di fronte alle quaglie li avevo fatti uscire nel deserto alzando la mano avevo anche giurato su di loro che non li avrei più condotti nella terra che avevo loro assegnato terra stillante latte e miele la più bella fra tutte le terre perché avevano disprezzato le mie norme non avevano seguito le mie leggi avevano profanato i miei sabati mentre il loro cuore si era attaccato ai loro idoli tuttavia il mio occhio ebbe pietà di loro e non li distrussi non li sterminai tutti nel deserto dissi ai loro figli nel deserto non seguite le leggi dei vostri padri io sono il Signore vostro Dio seguite le mie leggi santificate i miei sabati eccetera ma anche i figli mi si ribellarono non seguirono le mie leggi non sosservarono e non misero in pratica le mie norme che danno la vita a chi li osserva profanano i miei sabati allora nel deserto io decisi di riversare il mio sdegno su di loro ma ritirai la mano e agì diversamente per onore del mio nome perché non fosse profanato agli occhi delle nazioni di fronte alle quali li avevo fatti uscire nel deserto alzando la mano avevo anche giurato su di loro che li avevo dispersi fra le nazioni e disseminati tra paesi stranieri questo non c'è nell'esodo è sempre diciamo l'attualizzazione dell'esodo in riferimento alla situazione contemporanea perché non avevano messo in pratica le mie norme allora io diedi loro attenti qui c'è la novità di Ezechiele in questa sintesi storica che sta facendo allora io diedi loro persino leggi non buone e norme per le quali non potevano vivere qui è un paradosso però cioè quelle leggi che Dio aveva dato per il bene non seguite causavano la morte ecco quel che dice per paradosso diedi leggi non buone un po' come in Isaia quando dice parla a questo popolo perché non ti ascolti perché non capisca ed è una cosa diciamo che ha fatto sudare ma inutilmente tanti studiosi possibili che Dio manda un profeta perché non venga capito no? ecco e anche qui abbiamo il paradosso diedi leggi non buone feci sì che si contaminassero nelle loro offerte facendo passare per il fuoco ogni loro primogenito per atterrirli perché riconoscessero che io sono il Signore parla dunque alla casa di Israele figlio dell'uomo e di loro così dice il Signore Dio i vostri padri mi offesero ancora in questo e si agirono con infedeltà verso di me può bastare ecco e come vedete presenta uno schema di storia Zecchiele o chi per lui uno schema di storia in forma ciclica nella quale si ripetono gli stessi elementi Dio fa grazia dando la sua legge che non va interpretata in senso giuridistico come scorrettamente potremmo interpretare noi la legge a cui fa riferimento la Bibbia in genere è la volontà è come dico io il sacramento della volontà di Dio le cose scritte sono l'apparenza la visibilizzazione di quella che è la volontà di Dio la volontà di Dio come ci insegna Gesù nel discorso della montagna sta alla radice quello che viene fuori è non uccidere eccetera eccetera quindi questo è la legge alla quale bisogna attenersi quindi è a questo che fa riferimento allora il profeta e l'uomo dice immancabilmente viene meno non obbedisce alla volontà di Dio quindi non si tratta di fare i fioretti eccetera proprio l'uomo che ama vivere nell'ingiustizia se volete che io vi dica una cosa attuale siamo reduci da una grandissima guerra mondiale la seconda guerra mondiale 50 milioni di morti e oggi nella nostra epoca attuale ci sono rumori di guerra nessuno a cominciare dai grandi si parla pensa alla pace pensa non pensa diciamo così a ripristinare i patti di non proliferazione nucleare eccetera e soltanto si pensa alla guerra alla guerra a uccidersi la maledizione di Caino continua su questa umanità che non vuole capire di questo parla la sintesi di storia di Ezechiele no? quindi la storia è un susseguirsi di cicli temporali nei quali alla grazia di Dio il suo popolo risponde con le perversioni e tuttavia in questa lotta tra il bene e il male sarà Dio il vincente almeno questo è quello che ci fa capire alla fine del capitolo 20 e i versetti 34 e seguenti no? così si esprime Dio dice poi vi farò uscire di mezzo ai popoli e vi radunerò da quei territori dove foste dispersi con mano forte con braccio possente con ira scatenata e vi condurrò nel deserto dei popoli e lì a faccia a faccia vi giudicherò come giudicai i vostri padri nel deserto e così farò con voi vi farò passare sotto il mio bastone e vi condurrò sotto il vincolo dell'alleanza separerò da voi i ribelli e quelli che si sono staccati da me li farò uscire dal paese in cui dimorano come forestieri ma non entreranno nella terra di Israele a voi casa di Israele così dice il Signore andate servite pure ognuno i vostri idoli ma alla fine mi ascolterete e non profanerete più il mio santo nome sul mio monte santo infatti sull'alto monte di Israele mi servirà tutta la casa di Israele quindi il futuro esiste le riletture attualizzanti trovano qui già il terreno per alimentare il messaggio ultimo del libro che si esprimerà in termini escatologici e come vi dicevo apocalittici o proto-apocalittici la fine è il fine della storia questo è il primo elemento poi il secondo adesso vediamo il significato dell'alleanza tra Dio e Israele quindi come secondo secondo tema del libro la perdita del Tempio centro dell'universo nel capitolo 38 quando i popoli si avventano contro Gerusalemme il testo dice fa dire a Dio le genti le nazioni Goim o Liammim Rabbim ecco si butteranno verso il tabur a Arez l'ombelico della terra ecco per le antiche concezioni all'antica concezione no delle società arcaiche o premoderne pre-galileiane come volete voi la propria città il proprio Tempio principale rappresentavano l'ombelico del mondo ecco l'ombelico sapete ce l'abbiamo tutti eccetto Adamo e Deva abbiamo tutti l'ombelico e l'ombelico vuol dire il centro dell'universo ecco e Gerusalemme veniva concepita come ombelico del mondo se venite a Roma Roma la conoscete bene anche a Roma per i Romani c'era l'umbelicus mundi ecco c'è lì nella zona dei fori imperiali l'ombelico del mondo quindi Gerusalemme è al centro e quindi il Tempio nella concezione del Tempio di Gerusalemme rappresentava la stabilità e la stabilizzazione perpetua di tutto ciò che è la consistenza di Israele la perdita del Tempio centro dell'universo ha accentuato il valore prioritario conferito alla Torah in mancanza del Tempio noi vediamo tutta la storia che noi leggiamo da Genesi fino a Due Re e nella letteratura profetica toccata da queste elite noi troviamo come elemento come colonna che sostiene il destino del popolo di Dio la Torah la Torah intesa come vi ho detto come sacramento della volontà di Dio quindi diciamo la perdita del Tempio ha messo in primo piano la Torah espressione di quell'alleanza o patto che Dio aveva sancito al Sinai tramite Mosè con Israele si trattava dopo la catastrofe di ritrovare un nuovo centro attorno al quale ruota tutta la realtà da quella socio-religiosa a quella cosmica secondo le vedute del tempo tutto ruota attorno al proprio ombelico un po' come per il bambino tutto il mondo deve ruotare attorno al suo ombelico e le antiche società diciamo premoderne si vedevano al centro gli altri erano nemici non è scomparso questo nostro sentimento ancestrale noi abbiamo sempre paura dei diversi tutto ciò che non coincide con diciamo la mia formazione la mia la mia città il mio ordine eccetera tutto ciò che è diverso mi mette perlomeno in apprensione purtroppo questo sentimento ancestrale lo conserviamo ancora e dobbiamo superarlo se vogliamo arrivare all'escatologia di Ezechiele ecco quindi si trattava dopo la catastrofe di ritrovare un nuovo centro certo il tempio era il luogo dell'incontro tra Dio e i suoi fedeli come aveva ben espresso Salomone nel suo discorso alla dedicazione della dimora divina al capitolo 8 del primo libro dei re alla dedicazione del tempio Salomone fa una bella omelia più bella di quella che fanno molti miei colleghi sacerdoti ecco perché il re in quel tempo era anche sacerdote e aveva funzioni sacerdotali e quindi ha fatto una bella omelia alla dedicazione soltanto che quella omelia non è stata pronunziata da allora non esistevano i registratori non è stata registrata è stata fatta soprattutto da questo movimento il quale ha fatto queste aggiunte dunque in questa omelia non poteva perdere la sua importanza il tempio come denota del resto lo stesso libro di Ezechiele nel quale il santuario gioca un ruolo fondamentale tuttavia era successo qualcosa di straordinario che già la suddetta omelia tra virgolette di Salomone in brodo di cultura deteronomistica aveva previsto la perdita del contatto col tempio causa l'esilio ma anche però la possibilità di mantenere il legame con esso convertendosi ritornando vi ricordate shuvlat e shuvah il ritorno a Dio non vi sto a leggere il testo perché ho detto non voglio dilungarmi ve lo cito così sinteticamente allora nell'omelia Salomone si rivolge a Dio e dice signore quando entreranno in questo tempio e chiederanno questo e questo tu concedili saranno peccatori perdonali se a un certo punto l'ha giunta saranno allontanati da questo tempio e da questa terra e saranno trapiantati in un altro territorio straniero quando si volgeranno con lo sguardo verso il tempio di Gerusalemme e ti pregheranno tu ascoltali vedete c'era di fronte diciamo la situazione contemporanea era una comunità in esilio che aveva perso il tempio e quindi ecco perché vi dicevo si tratta di un'omelia costruita a posteriori ecco e soltanto convertendosi e ritornando a Dio e volgendo lo sguardo in direzione del tempio pregando il signore a favore del suo popolo espressioni che rimandano alla formulazione dell'alleanza Adonai e Abel il Dio del suo popolo e Israele il popolo di Dio il tempio quindi manteneva la sua centralità ma ormai la centralità era dopo l'esperienza storica condizionata qui passiamo da una religione naturalistica quella precedente alla catastrofe a una religione etica sì è centrale il tempio ci siano tutte le cerimonie le liturgie però come dice Osea come dice Amos come dice Michea però se non c'è il comportamento giusto dell'uomo non servono a niente e in Isaia Dio che dice odio le vostre liturgie i vostri sacrifici vani il tempio quindi manteneva la sua centralità come eticamente moralmente la E secondo l'etica la storia aveva insegnato che neanche le istituzioni più sacre possono permanere se non viene a giusta condotta ma è proprio per seguire il retto cammino che diventava vitale la funzione della Torah e dei suoi precetti e questo ve lo devo leggere il Deuteronomio prendete il Deuteronomio che è la base del messaggio della predicazione del Deuteronomista al Deuteronomio capitolo 30 capitolo 30 versetti 1-5 ecco quando tutte queste cose che io ti ho posto dinanzi la benedizione e la maledizione si saranno realizzate su di te e tu le richiamerai alla tua mente in mezzo a tutte le nazioni dove il Signore tuo Dio ti avrà disperso se ti convertirai ritornerai cioè dice il testo ebraico al Signore tuo Dio e obbedirai alla sua voce tu e i tuoi figli con tutto il cuore e con tutta l'anima secondo quanto oggi ti comando allora il Signore tuo Dio cambierà la tua sorte avrà pietà di te ti raccoglierà di nuovo da tutti i popoli mezzo ai quali il Signore tuo Dio ti aveva disperso quando anche tu fossi disperso fido alle estremità del cielo di là il Signore ti raccoglierà egli ti farà felice e ti moltiplicherà ecco questo è quanto il Deuteronomio dice ma in altro luogo il Deuteronomio dice non dire che questa legge che io ti presento oggi è impossibile da seguire la parola viene usato questo termine in modo assoluto la parola purtroppo viene sempre tradotto questa parola ma la parola anche se diciamo sintaticamente e morfologicamente in italiano può sembrare un po' stonato ma è bene lasciare la parola abbiamo una teologia della parola quindi non la legge intesa come un mucchio di precetti come spesso noi intendiamo la legge la legge è come un mucchio di precetti no la legge è come vi ho detto la visibilizzazione della volontà di Dio che naturalmente molto al di sopra è trascendente rispetto alla lettera che noi abbiamo nei singoli precetti quindi e per seguire il retto cammino diventava vitale come vi ho detto la funzione della Torah e dei precetti questo però comportava l'aspirazione verso un nuovo regime delle cose non più quelle antiche rese nulle dal formalismo magico si pensava che il tempio fosse indistruttibile e anche Gerusalemme l'episodio che noi troviamo nel secondo libro dei re un fatto diciamo così casuale quando Sennacherib stava per conquistare Gerusalemme a un certo punto ha lasciato perdere e se n'è tornato perché i figli i figli scavezzacolli gli stavano togliendo il trono da sotto il sedere e quindi lui è dovuto scappare di nuovo in Assiria allora questo ha confermato quella quella specie di concezione per la quale Gerusalemme è indistruttibile nessuno la toccherà mai ecco in realtà questo è un formalismo magico e in realtà la novità non consisterà più in questo formalismo ma ci sarà un nuovo patto come Ezechiele fa affermare a Dio in quella stupenda promessa che troviamo al capitolo 36 di Ezechiele ai versetti 24-28 Ezechiele 36 versetti 24-28 vi prenderò dalle nazioni vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli vi darò un cuore nuovo metterò dentro di voi uno spirito nuovo toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme qual è il significato di questa meravigliosa affermazione è la stessa che noi troviamo in Geremia al capitolo 31 ai versetti 31-34 io farò con voi una nuova alleanza in futuro quindi aspetto escatologico non come quella che feci con i vostri padri quell'alleanza l'hanno purtroppo interrotta l'hanno rotta e interrotta e quindi abbiamo bisogno avete bisogno di un nuovo patto e il nuovo patto consisterà nel fatto che la legge sarà scritta nei vostri cuori e Zecchiele dice invece vi farò un nuovo cuore non come quello di prima il cuore di pietra come le tavole della legge ma il cuore di carne perché avrete lo stesso mio spirito dentro di voi quindi la interiorizzazione della legge ecco come vi dicevo è il discorso della montagna di Gesù è proprio una realizzazione di questo spirito di queste promesse messiani di queste promesse profetiche quindi un nuovo patto che avrebbe sancito un nuovo vincolo voi sarete dice Dio al versetto 28 del capitolo 36 voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio che è la formula tecnica giuridica dell'alleanza quindi questa sarà la nuova alleanza quindi tutta un'altra cosa basta andiamo all'altro problema il problema del male il problema del male anche il libro di Ezechiele dibatte in qualche modo un problema toccato più volte nell'Antico Testamento un problema nato con l'uomo e a lui sempre misteriosamente accanto ne abbiamo parlato di fatti anche ieri perché il male si è accennato a tale tema più sopra il popolo di Israele ormai circoscritto alla nazione giudaica è rimasto schiacciato dalla catastrofe del 587 il rischio di perdere con la speranza la propria identità o di volgersi ad un altro Dio era reale quei gruppi elitari sopra menzionati hanno cercato allora oltre a riscostruire l'identità periclitante di Israele di dare una risposta al perché di questa tragedia di questo dolore nessuna accusa al destino o al capriccio divino ma solo la responsabilità personale questa è stata la risposta anche qui il discorso sarebbe molto lungo purtroppo non posso svilupparlo ecco nelle altre religioni la risposta che si dava era in maniera commovente ma spesso assurda capriccio degli dei oppure il destino la sorte niente di tutto questo invece il movimento del quale stiamo parlando ha razionalizzato e ha eticizzato la risposta questa è la risposta nessuno accusa il destino il movimento detronomistico non ha voluto dare una semplice risposta impietosa quanto superficiale e insufficiente bensì ha scavato nell'essere umano ed è andato all'origine del problema da qui la storia di Adamo e Eva che disobbediscono al comandamento divino la presentazione mitica di una verità ontologica nel mito delle origini di Adamo e Eva noi abbiamo la prefigurazione di quello che sarebbe avvenuto nell'esodo di quello che avviene continuamente nella storia fino ad oggi Dio ci mette nell'Eden nella terra promessa l'Eden è una immagine della terra promessa ci dà una legge la sua volontà e noi disobbediamo ecco mangiamo ci piace mangiare la pianta proibita nell'uomo insita la tentazione di ergersi contro Dio il serpente dice sarete come lui ecco perché Dio non vuole la lezione deuteronomistica è affrontata da Ezechiele in particolare nei testi non ve li leggo mi dispiace perché il tempo corre comunque in tre testi voi trovate appunto questa risposta di tipo etico al capitolo 3 al versetto 6 fino al versetto 21 poi al capitolo 18 secondo passo e infine al capitolo 33 nei primi 30 versetti quindi 3 da 6 al 21 poi 18 poi 33 da 1 a 30 ecco almeno qualcosa beh comunque ve lo sintetizzo io allora il testo l'avrete sentito qualche volta no? dice non si userà più questo proverbio no? i padri hanno mangiato lua e i figli si sono ai figli si sono diciamo così rovinati i denti eccetera eccetera dice cioè è un po' quello che qualche volta purtroppo si dice ancora no? che i figli devono piangere i peccati dei genitori i genitori i peccati dei figli no? dice Dio ai zecchiele non si dirà più questo ma ciascuno sarà responsabile delle proprie azioni e questo è un salto epocale anche si passa da quella specie di concezione appunto molto superficiale direi anche un po' superstiziosa no? questa maledizione che si prolunga di generazione in generazione in realtà abbiamo qui una svolta di tipo etico no? cioè non dobbiamo più piangere per il peccato di uno che mi ha preceduto di uno che peccherà eccetera ma io devo a un certo punto essere responsabile delle mie azioni e sarò giudicato sulla base di quello che io faccio di bene o di male ciascuno di noi deve assumersi sempre le responsabilità quindi base della morale ebraica ma anche della morale cristiana principio di responsabilità guai a chi gioca o scarica barili ecco e questa lo facciamo continuamente no? non è stata colpa mia è colpa di Eva no? non è stata colpa mia è colpa del serpente non è stata colpa mia ecco non è non è colpa mia se quello è così è così è così ecco vabbè e questo è quanto la soluzione può sembrare a tutta prima oltre che insufficiente anche troppo severa però se noi diciamo prendiamo sul serio questa razionalizzazione del problema del male come vi dicevo ieri la cosa funziona funziona perché altrimenti noi rischiamo di cadere nell'irrazionale e appunto diventiamo o integralisti oppure nichilisti all'opposto nichilisti e andiamo incontro alla distruzione all'autodistruzione o alla distruzione degli altri ecco quindi allora è bene che razionalizzando noi trasformiamo in etica della responsabilità il nostro comportamento andiamo all'altro argomento la possibilità di salvezza ecco il profeta come emblema del popolo al quale egli deve destinare il messaggio rivela il suo ruolo fin dall'inizio Dio gli dice alla chiamata di ascoltare attentamente la sua parola e di non essere ribelle come la casa di Israele Indi riceve da una mano protesa un rotolo da ingoiare ingoiatolo e Zecchiele lo trova dolce come il miele pensate un rotolo senza condimento di sale pepe olio e aceto povero Zecchiele si è dovuto mangiare un rotolo ecco a chi pensa che sia una cosa reale storica e gli dico fai la prova tu prendi una Bibbia e mangiala vediamo che cosa succede naturalmente allora è simbolico no? ecco Dio gli dà appunto questo rotolo e dunque gli dà da mangiare ingoiato l'Ezekchiele lo trova dolce come il miele ecco la salvezza introiettare il sacramento della volontà divina presente nella Torah è quello che verrà esplicitato in quel testo che vi ho appena letto sul cuore nuovo quindi che cosa ha ingoiato Ezekiele simbolicamente che cosa ha fatto suo nelle sue viscere questo l'ho affrontato in uno studio recente contro tutti i miei colleghi che ancora interpretano in maniera come vi ho detto positivistica il fatto che Ezekiele abbia ingoiato soltanto la sua predicazione di guai che avrebbe diciamo così diffuso in mezzo al popolo non è questo ha ingoiato la Torah e se volete un parallelo di questo vi ricordate quando il re Giosia si è fatto leggere il rotolo del Tempio e il rotolo della legge trovato nel Tempio qual è stato la sua prima reazione si è strappato le vesti il figlio regiosia perché se io leggo la legge perché mi devo strappare le lezioni e perché aveva fatto questa questa sineddo che questa connessione ecco le cose cattive avvengono perché noi siamo disobbedienti e così qui è per questo che da un lato sente che il rotolo è dolce come il miele però dice da una parte e dall'altra c'erano scritti guai, lamenti e disastri ma come effetto della disobbedienza quindi da parte umana storicamente proviene solo il disastro come crudamente viene narrato in Ezechiele 8-9 anche lì diciamo non possiamo leggere adesso il testo ma è terribile la rappresentazione e quindi la scenografia mitizzata di quella che è stata la distruzione di Gerusalemme ci sono questi sette esseri così trascendenti messaggeri di Dio che massacrano tutta la la popolazione di Gerusalemme senza pietà ecco quindi e allora Ezechiele disperato dice signore vuoi distruggere anche il resto non ce la fa più il profeta che parla a nome del popolo e in realtà come vi ho detto è la mitizzazione non è che Dio veramente si diverta anzi proprio in Ezechiele dice Dio io non mi diverto non godo della morte del peccatore ma che egli si converta e viva quindi allora abbiamo una mitizzazione una raffigurazione simbolica di quello che è avvenuto nella distruzione di Gerusalemme l'unica cosa che si può fare è convertirsi ritornare a Dio perché solo da Lui proviene la continuazione della vita e della storia come il Signore promette per mezzo di Ezechiele ripetutamente il testo poi come anche il mio testo lo potrete trovare sia nel sito del diciamo del studio biblico anche nel sito della Prontificio Università Antoniano l'ho già messo nel sito questo questo testo quindi quelle le varie citazioni la grazia che solo da Dio proviene e gratuitamente farà sì che il suo popolo al momento della liberazione del ritorno e del ristabilimento delle istituzioni compreso il ritorno di Davide cioè della sua dinastia nel guardare a tali cose ammirabili si vergognerà del proprio passato cioè a un certo punto noi troviamo questa curiosa affermazione di Dio in vari punti del libro ecco io vi libererò vi farò ritornare nella vostra patria dalle nazioni dove vi ho disperso e quindi una salvezza così dice vi vergognerete del vostro passato noi non capiamo è una cosa che ci rende pochi perplessi no perché vergognarci invece dovremmo fare festa e perché come vedete qui abbiamo la predicazione quaresimale del deuteronomista certo la grazia a Dio è piena di misericordia ma se siamo coscienti della nostra responsabilità anche quando saremo liberati e penseremo al nostro passato ci vergogneremo di quello che abbiamo fatto no questo aspetto penitenziale è riproposto anche al momento in cui Dio rivela ad Ezechiele la futura carta costituzionale di Israele nei capitoli 40-48 noi abbiamo appunto quella che si può chiamare la carta costituzionale del futuro Israele quindi viene rappresentato il tempio futuro e dice così Dio al capitolo 43 ai versetti 10-12 tu figlio dell'uomo descrivi questo tempio alla casa di Israele perché arrossiscano delle loro iniquità ne misurino la pianta e se si vergogneranno di quanto hanno fatto manifesta loro la forma di questo tempio questa è Torah Tabait la legge del tempio quindi facendo la processione attorno a questa futura città tempio tempio città ecco ci si vergognerà perché perché la grandezza la bontà di Dio ci fa un po' come quando noi ogni anno rinnoviamo il triduo pasquale e sappiamo che le cose poi si concluderanno bene andremo a buon fine mangeremo la colomba di Pasqua l'uovo pasquale però il venerdì ci commoviamo nel ricordare quello che c'è stato che cosa diciamo ha portato alla Pasqua ecco quindi ecco che cosa tanto per capire il senso delle parole di Ezechiele in altre parole la misura della misericordia divina è anche motivo di riflessione circa i confini che sono propri del genere umano e che lo obbligano pena la sua distruzione a seguire i piani di Dio come vi ho detto alla domanda che cos'è l'uomo noi possiamo rispondere soltanto così l'uomo è un essere che è come simile a Dio ma non è Dio ecco è come fare stare appunto la quadratura del cerchio all'indomani ecco andiamo verso la fine del contributo all'indomani della catastrofe del 587 si è sviluppata nella comunità giudaica una nuova spiritualità le speranze di una restituzione delle antiche istituzioni e di una restaurazione globale hanno animato da subito sempre grazie a questi gruppi elitari le attese del popolo di Dio di generazione in generazione perché naturalmente queste elite hanno poi stimolato il popolo quello che rimaneva del popolo e quindi hanno coltivato alimentato queste aspettative addirittura si aspettava come vi ho citato prima il ritorno di Davide stesso quindi quelle speranze però non hanno trovato realizzazione storica eppure non sono mai morte anzi sono state coltivate come anelito incontenibile e incontenibile riflesso nella preghiera come strumento di richiesta a Dio fino a trasformarsi in utopia come mostra il libro di Ezechiele i capitoli 40-48 la cosiddetta Torah del Tempio del futuro Tempio è un parallelo escatologico della Torah mosaica difatti c'è tutta una serie di studi che mette in parallelo Mosè ed Ezechiele c'è la Torah di Mosè e la Torah di Ezechiele che è la Torah del Tempio viene descritta una figura ideale di Tempio dove queste vengono date le misure perfette matematicamente aritmeticamente perfette di questo futuro Tempio che manca però delle misure di profondità quindi è un disegno è una mappa allora la presentazione che ne fa il profeta non è la messa in mostra di un manufatto ma uno schema ideale costituito da misure perfette riflesso di una situazione finale che trasformerà l'escaton ciò che è in ultimo in protologia un ritorno all'Eden nel capitolo 47 anche questo testo non lo leggiamo lo conoscete bene si vede Ezechiele vede uscire dal Tempio un rivolo di acqua che man mano che scorre diventa un fiume navigabile fino ad attraversare tutta la Palestina no? e a diciamo dare rigoglio a tutto il paese è un nuovo Eden è un nuovo Eden quindi la escatologia chiude il cerchio e diventa di nuovo una nuova protologia stavolta non come miticamente simboleggiato in Genesi 2 l'Eden chiaramente identificato con la terra di Israele ma appunto con Israele stesso che viene nel capitolo 48 suddivisa per le varie tribù le dodici tribù questo messaggio utopistico diverrà un'eredità di cui abbiamo testimonianza pregnante nella biblioteca della comunità di Qumran il famoso rotolo del Tempio che si ispira anche se con varianti si ispira proprio ad Ezechiele e al Deuteronomio fino alla neotestamentaria Apocalisse capitoli 21-22 sapete bene che si chiude anche lì con la descrizione del futuro Teve la futura Gerusalemme che scende dal cielo agghiddata come una sposa per lo sposo e che cosa si dice? si dice che nella nuova Gerusalemme non ci sarà più il Tempio discontinuità nella continuità non ci sarà più il Tempio perché il Tempio è l'agnello continuità discontinuità nella continuità no? ecco e finisco il libro di Ezechiele diviene così il ponte che unisce in un unico messaggio l'Antico e il Nuovo Testamento è quello che era il mio intento anche ieri dandoci la possibilità di sviluppare il senso della parola di Dio questa la parola di Dio è una rivelazione sempre aperta di natura sua perché incarna la volontà di Dio di comunicare senza sosta con l'umanità intera non soltanto con Israele non soltanto con le persone di ieri non soltanto con i vecchi ma anche con i giovani e con quelli che verranno dopo di noi e che useranno un linguaggio diverso dal nostro che avranno idee diverse dalle nostre è inutile che gridiamo alla fine del mondo la fine del mondo avrà soltanto se stupidamente faremo la guerra nucleare solo per in quella maniera arriverà la fine del mondo ma non perché i giovani hanno idee diverse dalle nostre quindi la scrittura diviene il modello archetipico al quale dobbiamo continuamente guardare per coltivarne la lettura contemplazione come di fronte ad un grandioso tempio costruito perché possiamo incontrarvi lo stesso signore d'altro canto la scrittura è la possibilità sempre nuovamente offerta di inverarla nella storia così come è avvenuto sino ad oggi sia nell'ebraismo che nel cristianesimo grazie 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 a tutti